Ciao a tutti amici di Michelin di Ucennel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato a il nostro Pat Brothers con i Dietrich Busters. Nello scorso episodio avevo detto che volevo iniziare a fare l'ambizione per le duemila corone se non sbaglio, però abbiamo pochissimi soldi e quindi allora l'idea è quella di iniziare ad esplorare il nord, intanto però mi voglio buttare fuori da questa foresta perché non vorrei essere tipo decapitato da un esercito di duemila zombie o di Naxxerer volanti, briganti va bene. Andiamo a Muleinheim e cerchiamo di vedere se ci sono missioni. Magari una buona caccia ai briganti, perché no? Ai ai ai, due teschi. Per due teschi 5,20. Hunt down what terrorize Muleinheim. Vediamo se il negozio ci permette di morire poveri praticamente. Ok, va bene. È Dusk, quindi non è giorno. Quindi io ragazzi faccio l'ognorri. Lascio passare la nottata. Eccoli, eccoli, eccoli dove sono. Merda, mi hanno attaccato durante la notte. Speravo di poterli prendere durante il giorno, ma perlomeno sono in pianura. E i Naxxerer sono abbastanza semplici da far fuori. L'unico problema è che si mangiano i cadaveri a vicenda e i cadaveri dei loro compagni, e diventano più forti, si curano. Quindi devo cercare di far avanzare la prima linea. prima linea che sarà abbastanza sbilanciata verso sud. Guardate che ho gli archi che mi danno il 5... E la miseria! Questo è gigantesco però. Ho gli archi che mi danno il 5% di tiro. Boh, non so che dire. Andiamo avanti di una casella e alziamo gli scudi. Nel tuo caso di due perché chiudi, Dirk. Ok. Ok. Perfetto. Qui a sud dobbiamo supportare perché non va bene per nulla. Cioè abbiamo Ubert la torre che sì, è la torre, però ragazzi... Sarà circondato e massacrato. Ok, vediamo come si muovono. A sud abbiamo 4 uomini contro 4 nemici, a nord ne abbiamo molti di più. Siamo praticamente 4 contro 8. L'idea è quella di vincere a nord e poi portare a sud le truppe a supportare. Ah, a nord adesso ce n'è uno in più, ok. Però tutti corrono verso sud, eh. Il muro di lance purtroppo non funziona più. Questo è caduto in trappola perché adesso ha l'attacco dei due polearm e poi riusciamo a chiudere la... Abbastanza bene. Sperando che funzioni. Sperando che funziona più. Questi li ho già mossi tutti Quindi se faccio fuori questo Va bene Non serve neanche pensarci Tu alza lo scudo e mena E tu amico mio Spacca, spacca il nemico Che situazione è Ho paura ragazzi, ho paura che finisca male Però questo è positivo Questo è molto positivo in realtà Perché riesco a portare in prima linea magari Gerulf E ho fatto fuori uno dei più grossi Anzi no, non porto Gerulf in prima linea Perché questi non possono andare al posto Di quello che ho fatto fuori Scusate se non riesco a usare i nomi Ma del più grosso Perché 1 e 2 e 3 sono in fuga Mentre l'unico che mantiene il morale alto Se si sposta su questa casella E se prende un attacco opportunità E generalmente la IA non fa questa scelta Quindi non ho paura Eh, l'idea di metterli in fuga non è male Perfetto Perfetto Molto bene ragazzi Colpo d'ascia Purtroppo l'armatura di Wolf Però è stata completamente distrutta Quindi dobbiamo stare molto attenti Nel prossimo turno Perfetto Prenditi l'adrenalina Perché abbiamo bisogno di te amico mio Molto bene Molto bene ragazzi Dobbiamo fare tutto il possibile Per ucciderne Per uccidere il grosso Il grosso cornuto Ok ragazzi Ne è rimasto soltanto Uno in piedi Grosso Ed è il cornutazzo Se facciamo fuori lui Va veramente molto bene Cerchiamo di metterli in fuga Non va in fuga Attacca Attacca Wolf E Ci è andata molto bene Perché abbiamo rischiato di perdere Wolf Anche se comunque c'è ancora una Possibilità Di perdere il nostro uomo Ok Il cornutazzo è andato Però Non festeggiate ragazzi Non festeggiate Perché c'è ancora Ok Festeggiate Perché abbiamo messo in fuga L'ultimo bastardo Run Them Down Voglio vedere Chi lo ammazza Dai Adelberto Perfetto Ragazzi Missione fantastica Se non fosse che Wolf ha perso l'elmo E tantissima energia Veruf ha livellato E come sempre guadagniamo tre denti Che è il nullo eterno Attaccare Naxxerem È veramente una Pfff La cosa che ti fa venire l'odio Però intanto abbiamo Eliminato i Disappealing Villagers Da questa città E magari Facciamo un level up E vediamo se l'indomani Riusciamo a Perks con Gerulf Ma generalmente Avere lo scatto Di adrenalina Con i Polar Mi piace Perché riesco sempre Poi ad utilizzare La seconda linea Due volte di fila È una strategia Che a me piace Vediamo se Mulheim adesso Possiamo comprare Qualcosa ad un buon prezzo 288 è un prezzo Pessimo Però me ne faccio Una ragione Visto che mi servono Gli strumenti E Invece il pane È un prezzo Molto buono Devo comprare Qualcos'altro Ma tu No Semplicemente Devo riparare Questa è la verità La dura verità Ok Non ci sono più Altre missioni qui Quindi Dovevamo andare A nord Giusto E adesso andiamo A Bergao Allora Dirk suffers Lighthounds Ok Andiamo verso Bergao Vediamo se c'è Qualche Cosa che possiamo fare Intanto Va bene Le nostre provvigioni Continuano a scendere Ma almeno ripariamo Le nostre armature Dobbiamo ottenere 2000 corone Però Credo che ci servirà Prima di tutto Una riserva in più Quindi un tredicesimo uomo E poi dobbiamo migliorare Tantissimo le armi Intendo dire Riparare Quindi gli strumenti Se li trovassi A prezzo basso Diciamo che non Mi dispiacerebbe Marketplace Ecco Allora facciamo così Vendiamo il legno E compriamo Gli strumenti Per riparare Così rimaniamo Allo stesso livello Di Assolutamente Assolutamente Mi piace Qui abbiamo Il formaggio 160 Perfetto Così Prendiamo Del formaggio Del cibo in più Ottimo E ci prendiamo Anche una missione Let's talk about money Che cos'è Delivera cargo Accettiamo Dove va portato il cargo Ti prego dimmi Non a sud Oh perfetto 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 ragazzi Quindi inizia il nostro viaggio Verso nord Come avevamo promesso Però la prima cosa che voglio fare È andare a vedere Muchenmarkt Perché non ci sono mai stato E siamo una città molto grande E se nel frattempo Troviamo delle impronte Così vuol dire Che sono briganti Ragazzi Ah no Peasant Sembra ben protetta Questa zona Ragazzi Ah milizia Ok Muchenmarkt È notte Quindi possiamo andare Soltanto in taverna Ci sono missioni A due teschi No voglio soltanto Vedere come Sapete cosa vi dico Ragazzi Che non posso vedere niente Perché Siamo seri Non ho i soldi Per pagare La mia compagnia E nel pomeriggio Del giorno 12 Devo tirare fuori 160 corone Che non ho Tanto qui abbiamo Dele rovine collassate Devo arrivare a Grimstad Prima che sia pomeriggio E non so se ce la faccio Ho qualcosa da vendere Assolutamente Nulla I ragazzi Si incazzeranno Un poco Midday Quando è afternoon Scatta la paga Fantastico 326 corone E una nuova missione Vediamo se questo Mercato è buono È terribile In realtà Anche se No le armi Costano poco Peccato che non abbia niente Qui c'è una buona missione Che accettiamo Chiedendo 650 E nel prossimo episodio Ragazzi Andiamo alla ricerca Di un Abandoned Stronghold Dove dobbiamo far fuori Qualche Boh Non morto Raider Lo scopriamo presto Grazie per essere rimasti con me E alla prossima